Il nostro impegno vuole essere quello di costruire ogni giorno, quotidianamente, la festa dei vicini, cercando di essere una vibrazione culturale all'interno di questi palazzi dove noi costruiamo le comunità per cercare di facilitare la vicinanza fra le persone che genera solidarietà, che genera legame sociale e che migliora la qualità della vita in questi palazzi che da palazzi diventano case. Sabato 25 settembre le comunità di ACMOS hanno vissuto la festa dei vicini, un'occasione per condividere momenti di socialità con gli abitanti dei quartieri, organizzando pranzi e attività per i bambini, per vivere una giornata all'insegna dell'incontro e dello stare insieme. Il pranzo nel cortile della comunità dei testitori, il book crossing in casa ACMOS e i murales negli spazi comuni di filo continuo. Momenti diversi uniti dalla volontà di puntare ancora sulla collettività e sulla forza dei legami sociali. È stata dura questa mattina svegliarsi, perché ci siamo dovuti svegliare ovviamente un po' presto per essere sabato mattina, per allestire tutto quanto, i tavoli e cucinare. Abbiamo in particolare cucinato noi, poi qualche inquilino ha portato qualche cosa che aveva preparato, così come da usanza nella festa dei vicini. Però direi che è una fatica decisamente bella, perché poi il risultato si vede, la tavolata piena, la gente sorridente, i bambini che giocano, direi che ripagano ampiamente gli sforzi che abbiamo fatto in queste settimane per coinvolgere le persone e per preparare bene questa mattina, questo momento. Oggi aspettiamo gli abitanti del quartiere in collaborazione con il tavolo ex CEAT, quindi con la biblioteca civica Leoncavallo, con il centro donna di Corso Vercelli, con l'accoglienza del gruppo Bele e aspettiamo che arrivino i cittadini del nostro quartiere per mettere in atto il book crossing, per cui ci aspettiamo che ognuno di loro porti un libro da cambiare con quelli che abbiamo noi di Casa Acmos allestito in questa bancarella. Oggi pomeriggio abbiamo l'edizione del sabato special di settembre, puliamo il giardino e coloriamo l'atrio del piano zero di fronte ai locali comuni. Già questo inverno abbiamo colorato uno dei due locali col tema la città, oggi riproponiamo la stessa attività ma con il giardino. L'idea di fare un murales che è stato un po' imbastito, tutti i bambini invece verranno a colorare, dipingere pennelli, spugne e colori. Ma non solo festa dei vicini, domenica è stata anche l'occasione per incontrare coloro che andranno ad abitare nelle future nuove comunità. Filo continuo cresce con due nuovi appartamenti in Viorvieto e presto nasce la sorgente, in Corso Novara. Lavori in corso e tanta voglia di incominciare una nuova avventura. Siamo così pronti, stiamo per finire di dare il colore in questo primo appartamento di Viorvieto 1-13. Abbiamo iniziato questa mattina molto presso, quindi ci siamo già dati tanto da fare per poter entrare il prima possibile. L'altro appartamento si trova in Viorvieto 1-29 e in particolare qui vivremo io e Camilla, mentre nell'altro appartamento ci saranno Elena e Giulia. Dopo un'attesa in questi mesi precedenti siamo pronti insieme a Davide, Anastasia, Davide, Valentina, Luna e Liana per cominciare questa avventura e penso che sia bello il fatto che Sorgente sia vicino a Casacomo in modo tale che la rete sul quartiere si possa allargare sempre di più. Alla comunità dei testitori abbiamo incontrato anche Elvi Rossi, il presidente di ATC, che ha annunciato l'imminente apertura di Sorgente. La comunità che nascerà in Corso Norvara con sei appartamenti, grazie alla vicinanza con Casa Acmos, permetterà di fare rete e radicare la presenza di Acmos sul territorio. Abbiamo questa settimana definito attraverso il Consiglio di Amministrazione il percorso, cioè la ufficializzazione di questa consegna, di queste unità immobiliari che sarà fatta nei prossimi giorni e ripeto non nelle prossime settimane ma nei prossimi giorni, proprio per consentire dall'inizio di questa esperienza, qui sono circa 170 unità immobiliari in quel complesso, è un complesso nuovo, è una bellissima ristrutturazione, è un luogo indubbiamente molto bello. Il presidente di ATC sottolinea l'importanza del lavoro delle comunità e auspica che la festa dei vicini diventi la festa di ogni giorno, creare quotidianamente relazioni e legami di prossimità per uscire dall'isolamento, ritrovando la capacità di vivere insieme agli altri. La capacità di interagire che è per un giorno ogni anno ma auspicabilmente dovrebbe essere tutto l'anno, cioè la capacità di salutarsi, di condividere determinati momenti e di aiutarsi quando c'è bisogno. In questo credo che il progetto Sorgente sia una cosa intelligente, credo che possa dare dei buoni frutti, sperimenteremo questa cosa e l'augurio è che i progetti Sorgente possano essere tanti.